In Cuneo siamo in compagnia di Andrea Kuznesov per parlare innanzitutto della vittoria di Cuneo domenica ad Albissola e poi per avvicinarci alla partita attesissima sabato in derby contro Fossano. Allora Andrea iniziamo appunto dalla partita di domenica avete iniziato male anche a caso di un infortunio del capitano che vi ha lasciato un pochettino diciamo in una situazione difficile nel primo set poi vi siete ripresi bene avete detto una vittoria importante in D'Aster. Sì una vittoria importante perché comunque sia non dovevamo perdere più punti per strada dato che due domeniche fa abbiamo perso punti con Assi con una squadra che era la nostra altezza dove avevo diciamo regalato questi punti. Contro Albissola appunto abbiamo iniziato sì male poi per via del campo comunque sia giocano con un pallone diverso e tutto quindi ci sono state delle difficoltà iniziali in più l'aggravante c'è stato comunque l'infortunio del nostro capitano di Ariadio. Tanto non è la prima cosa che ricapita perché San Mauro non è capitato assolutamente. Esattamente e infatti questa è la cosa più importante che ha fatto piacere sicuramente a me ma come a tutti quanti della squadra è aver dimostrato che non sono sei o sette titolari ma siamo una squadra sono tutti e dodici siamo tutti fondamentali perché infatti come si è visto a San Mauro è entrato un innesto come Flavio e abbiamo vinto la partita da tre punti e la stessa cosa è capitato contro Albissola con un nuovo innesto sempre Flavio in questo caso abbiamo portato a casa tre punti anche partendo già svantaggiati da quasi un set a zero appunto in più con l'infortunio del capitano quindi diciamo che dimostriamo veramente di essere capaci di essere veramente una squadra inizio. Tra l'altro hai accennato da Mauro a Mauro che in questo senso il campionato ha avuto un ruolo comunque importante sostituire sempre all'ultimo momento giocatori infortunati l'anno scorso lui era una colonna della B2 che era molto giovane quest'anno ha un ruolo diverso e sarà una pedina importante per voi soprattutto in questi frangenti in cui magari bisogna anche di forze presse in campo quando le cose non girano bene. Sì sì sicuramente lui è giovane ma molto capace, ha grandi doti fisiche, è un bravo ragazzo in tutto e quindi diciamo ha dimostrato in queste partite appunto di saper stare in campo e comunque darci una grossa mano come ci servirà per tutto il campionato è anche molto fondamentale per noi appunto. E poi cosa importante il carattere che si è già visto in più frangenti in questa stagione forse solo contro asti avete faticato un po' anche a livello mentale non riuscivate a trovare le contromisure. Domenica anche qui carattere. Domenica sì sì diciamo l'uscita oltre la squadra è uscita anche una grande prova di carattere appunto non era non era facile comunque sia fuori per casa, perdere un set senza il capitale in campo che comunque è la nostra pedia fondamentale è il nostro bomber alla fine della squadra. Quindi sì c'è anche carattere in tutto ciò. Ecco adesso dopo questa vittoria importante partitona sabato sera contro Fossano qui a Pallavrebanca con la squadra veramente più forte del campionato detta di quasi tutti insomma questa è una partita che può dire già tanto sul vostro futuro anche se siamo ancora all'inizio del campionato però ovviamente vedere che dovete giocare contro Fossano vi darebbe sicuramente ulteriori fiducia. Sì sì sicuramente una delle squadre favorite di questo campionato noi abbiamo avuto comunque già una prova con Fossano durante le vichevole e ce la siamo cavata bene abbiamo conosciuto un po' anche loro e le loro potenzialità e sicuramente noi non siamo davvero nel senso che noi scendiamo in campo come le ori nel senso noi dobbiamo aggredire comunque sia ogni tipo di avversario come già è capitato con Regina dove sulla carta forse eravamo nettamente inferiori non so ma credo che abbiamo dimostrato come squadra di saper valere e di essere all'altezza di tutte le squadre di questo campionato quindi sabato sicuramente sarà una partita mi auguro bellissima sia da giocare e sia per il pubblico. Ci aspettiamo di sabato sera un appuntamento che non può mancare per molta gente alla fine. Ultima cosa secondo te quali sono i punti di forza di questa squadra che ha delle individualità veramente importanti secondo te i punti più temibili? punti di forza nostri diciamo punti di forza loro secondo te quali sono le cose da tenere? eh sì sicuramente su cosa dovrete giocare voi sicuramente loro hanno un bravissimo collegiatore d'esperienza comunque sia anche anni di Serie A e poi hanno due innesti che io personalmente conosco gli ex compagni giocatori come l'opposto De Matteis che è un bel giocatore che si spera che non entri in partita con noi perché se entri in partita può fare veramente male. Abbiamo avuto un giocatore contro il Savigliano ed è stata un ira di tiro Esattamente, la nostra bravura sta appunto di cercare di non far entrare in partita questo giocatore come vedina fondamentale e come altre vedine fondamentali c'è anche l'altra banda che conosco personalmente Sorrenti che è un ragazzo comunque giovane ma molto molto bravo e ha molto carattere diciamo insieme all'opposto per il resto anche i centrali comunque sia sono è una bella squadra ecco Tutto sommato è una bella squadra quindi diciamo i punti di forza loro sono multipli rispetto che ne so altre squadre che ho incontrato in Gino Per ogni appuntamento ricordiamo ancora una volta sabato Sabato alle 21 appuntamento alla prebanca vogliamo i numerosi